Lillov, Armwood, che cosa va? Schiacciata superlativa! Per gli avversari ancora l'errore, Rush, seconda schiaccione per Eric Rush. E fa retrocedere cosa? Allora Passera con l'assess, per Cittadini lo cancella, che aniloso! Allen, tenuto ora dalla difesa e Spence ad appena 6 punti, gran palla per Silver Brian. Cantagalli, attacca ancora dell'area, va a subire la stoppata di Sec, poi Casini è già dall'altra parte, va a schiacciare a due mani! Marino, lo scarico per Rossi, che va oltre la ferro! Demian Hollins in punta contro Pierini, finta l'endopo, va fino al ferro! Demian Hollins! Rossi, perde palla, Jordan Parks, transizione aperta, fino in fondo, la schiacciata di Jordan Parks! Palleggio vivo per Millers di lui, Busetto, il taglio con la palla ercoprata da Busetto, il contropiede lanciato con Pierini che vince! Piccoli, 10 secondi, Diego Monaldi, Diego Monaldi, Diego Monaldi, Diego Monaldi per vincere! Cosa ha fatto? Cosa ha fatto Diego Monaldi? Incredibile! Non ci sono parole! Cosa ha fatto? 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 C